A 33 anni dalla strage di Bologna, una strage che ha sconvolto la città di Bologna, ma non solo, anche l'Italia intera, oggi siamo qui alle officine delle famiglie di Stato a Rimini proprio per ricordare tutte le vittime, tutte le 85 vittime di quella strage e ovviamente la nostra buon cittadina Flavia Casadei che perse la vita durante quella giornata mentre andava a scuola. Il nostro compito, il nostro ruolo è quello di unirci a tutte le richieste che abbiamo ascoltato anche qui oggi, di verità e di giustizia e indubbiamente come amministrazione comunale faremo in modo che anche la memoria di questa strage, ma così anche come tutte le altre, verrà trasmessa anche al nostro futuro perché è importante non lasciar cadere queste esigenze di giustizia, queste esigenze di democrazia e trasmetterle come messaggio ai nostri giovani. Grazie per la visione!